e buon pomeriggio a tutti ben trovati ancora una volta insieme per una nuova puntata di talk vision buonasera a tutti ciao chico ciao regia tutto bene tutto bene allora che si dice che si fa allora ultimamente ci si vede sugli schermi della tv su catalan tv stai impazzando sul web su questo nuovo canale questa nuova idea questo nuovo progetto come come nasce come arriva e perché soprattutto perché fausto frinelli si mette alla vera andata di 25 anni di di fare comunicazione televisiva e anche un po di web come come nasce guarda detto bene perché io a 49 anni ho scoperto non di avere la passione io l'ho sempre avuto la passione ma alla fine ho deciso a 49 anni di buttarla proprio fuori di farlo uscire audaci a cuore aperto audaci a cuore aperto è un il titolo di un format di tanti che ce ne saranno del di algero channel di questo canale questa piccola web tv on demand che trovi su www.algero channel.it dove ci sono interviste a questi personaggi più o meno famosi ma non per raccontare chi è il personaggio ma per raccontare chi è la persona che poi costruisce il personaggio e come nasce quanto tempo hai covatto questo questa voglia di fare questa cosa e poi perché come preso poi in mano l'iniziativa è portata allora guarda era i primi di novembre l'otto novembre e praticamente in cinque sei giorni ho messo su tutto è perché ho chiamato perché avevo perché volevo fare questa roba qua la prima persona che ho chiamato fu Umberto Burlotti l'ex direttore generale di Sogial entusiasta della cosa gli ho spiegato un po' come come volevo fare l'intervista ha detto subito di sì e siamo partiti la sua è stata la prima intervista è stata anche la prima puntata che tuttora ha quella che diciamo che la puntata più seguita fino ad oggi lo segue Mauro Pili a pochissimi punti ma credo che lo scudetto lo vinca Burlotti la domanda che lascia più perplessi che fai qual è in genere perché io ti seguo poi no ti guardo ogni tanto allora le domande sono 38 domande ah sono proprio numerate sono 38 domande se ne inserisce qualcuna a seconda e sono sempre le solite sono sempre le solite è sempre uguale la domanda cioè non in base al personaggio fai delle domande diverse ci sono due o tre domande che ballano ad esempio Burlotti gli ho chiesto comunque della Sogial perché è stata una sua creatura a Pili gli ho chiesto delle cose personali però le domande lo schema lo schema è quello lì sono domande che ho fatto che ho costruito con un mio amico che studia un mio amico di Oristano che studia psicologia all'università e praticamente gli ho detto guarda io devo intervistare queste persone dobbiamo fare insieme io avevo già in mente delle domande lui me ne ha affinato qualcuna e sono venute fuori questa griglia di domande che veramente fa uscire la persona tu pensa che ti racconto un particolare quando ho finito l'intervista a Mauro Pili che l'abbiamo fatta in una bellissima villa dietro Tancafarrà quando l'ho accompagnato alla macchina perché poi lui è andato via mi ha detto Fausto io sono un giornalista credo di non aver detto mai a nessuno le cose che ho detto in questa tua intervista mi ha ringraziato mi ha fatto i complimenti poi è partito la domanda più imbarazzante che fai? domande ce ne sono tante diciamo che uno ci pensa un po' quando chiedo se lei è una bella persona si ritiene una bella persona e cosa intendi quando fai questa domanda? che risposta ti aspetti? questa è una domanda che deve far venire fuori chi è veramente la persona perché è bello non fisicamente è bello poi qualcuno come Antonio Costantino l'ultima domanda l'ultima intervista che gli ho fatta ha detto sì io sono in effetti sono una bella persona ma io per bella intendo tutto sì internamente cioè spiritualmente eccetera eccetera esatto c'è qualcuno che ha risposto con un po' di tentenamento ecco quali sono gli ingredienti che bisogna avere per essere una bella persona per quanto ti riguarda? quando tu fai questa domanda e ti aspetti una risposta in base a che cosa i tuoi canoni vedono una bella persona una persona ottimista una persona proattiva una persona positiva soprattutto passionale passionale perché solo avendo una grande passione si possono fare grandi cose ma mi hai portato qualche contributo no? non ti ho portato nulla perché non ho fatto a tempo mi hai visato due ore fa penso sarebbe stato bello commentare queste cose vedendo magari qualche intervista possono andare a vederlo su aghierochannel.it sono lì presenti basta andare lì cliccare senti un po' invece tu il tuo modo di trasgredire cos'è per te la trasgressione? la trasgressione è fare delle cose normali perché io già faccio cose un po' anormali tipo? trasgredire in che campo innanzitutto? no vabbè la trasgressione è uno status no? tu in quale maniera trasgredisci? quando si pensa alla trasgressione si pensa sempre a qualcosa di di piccante di piccante vedi? ma trasgredire potrebbe essere anche andare a 250 all'ora no io in macchina vado piano andavo forte in macchina adesso vado piano quando si è aumentato a papà vado piano trasgredire si può trasgredire in qualsiasi momento della propria vita l'importante è che questa tua trasgressione non invada la normalità dell'altro che si rimanga dentro il limite del rispetto naturalmente fai uso dei social, usi questi nuovi sistemi di comunicazione in maniera esagerata oppure nella giusta misura? ma io credo di usarli in maniera giusta e poi qualcuno può anche pensare che sia in maniera esagerata però secondo me facebook si usa per, posso dire una parola, per cazzeggiare però chi lo usa per lavoro e lo sa usare porta i suoi risultati io uso youtube che è la piattaforma dove cariciamo i video e poi facebook dove pubblicizzo la pagina anche lo channel che insomma sta andando molto bene a proposito di youtube, monetizzazione tu lo fai anche per monetizzare, fare molte visualizzazioni e poi magari avere anche un riscontro a livello pubblicitario da parte di google oppure no? allora no, io attualmente non monetizzo il mio canale non raccoglie pubblicità volutamente non raccoglie pubblicità per il momento perché? perché hai fatto questa scelta? perché la trasmissione, il primo format che abbiamo fatto audace a cuore aperto secondo me non ha necessità di raccogliere pubblicità cioè è una cosa, programma di approfondimento per cui dove la gente guarda con estrema attenzione la persona che parla e secondo me se c'è un passaggio pubblicitario può rovinare il momento perché sono tutte interviste interessantissime guardandoti allo specchio la mattina intanto se sei a posto con te stesso quando ti guardo allo specchio dici io sono onestamente a posto con me stesso oppure se hai delle cose o hai delle cose da rimproverarti fatti una domanda e date una risposta allora ho una cosa da rimproverarmi sì, quella di essere stato un po' troppo audace nel fare una cosa alcuni anni fa che non è andata bene è andata anzi malissimo però non ero solo adesso non so se dare la colpa a me o all'altro a tutto quello che si è creato comunque quello credo che sia l'unico grande errore che ho fatto in 49 anni chi sono i tuoi prossimi ospiti della trasmissione e perché con quale scelta tu li portirai da te allora una persona Goethe diceva che l'audacia ha in sé genio, potere e magia una persona audace per me è quella persona che si fa guidare e non ha paura di farsi guidare dalla propria passione per fare quello che più gli piace come scrivo io nel titolo l'audacia è il miglior modo per interpretare la propria vita al meglio la propria vita un'audacia è quello che non ha paura è quello che vede un po' più lontano degli altri quello che ha una visione grande, piccola comunque una visione e dopo ci mette tutta l'audacia possibile per realizzarla le persone che io ho intervistato sono secondo me delle persone audaci parlo dello stesso Borlotti dei ragazzi del comitato promotore del comune di Portoconte quelle sono delle persone straordinarie quella è una, secondo me una delle puntate più belle che ho fatto perché proprio intervistando riesce fuori il malessere di come stiamo vivendo adesso soprattutto nelle borgate nell'agro del comune di Alghero addirittura uno si è commosso io non ho tagliato diciamo così l'immagine ha fatto proprio un pianto a dirotto cioè proprio si respirava l'aria un'aria molto particolare la motivazione di questa commozione la cosa era dovuta? era dovuta a tante cose soprattutto perché queste persone che vivono nell'agro a Alghero ci vivo anch'io io ho un'attività commerciale a Santa Maria Palma vivono una condizione veramente di disagio strade sempre piene di buche raccolta della nettezza urbana che viene a Singhiozzo completamente viviamo uno stato di abbandono veramente incredibile bisogna bisogna viverci nell'agro per poter capire come viviamo lì e questo ragazzo se l'ha preso a cuore poi purtroppo è cambiata la legge regionale sui enti locali il comune non si fa più però credo che abbiano fatto un grossissimo lavoro Chi salverà le rose? questo nuovo film firmato da Cesare Fulesi con la produzione di Corallo Film è prodotto da Cesare da Giulio Cesare Senatore che ruolo hai all'interno? ti vedo ogni tanto balsegare all'interno del sette ah beh io lì vado per imparare vai a scuola io sono uno studente che cosa sai di cosa ci puoi anticipare di questa di questa pelicola? è un film che probabilmente adesso che sono iniziate le riprese qui ad Alghero adesso la gente ci crede che stiamo facendo un film perché fino a pochi giorni fa secondo me non ci credevano e questi due Cesare Fulesi e Giulio Cesare Senatore sono due audaci visionari cioè sono due che non hanno mai mollato perché sono da due o tre anni che stavano tentando di fare questo film e l'hanno fatto con veramente le loro forze senza l'aiuto di nessuno saranno prossimi ospiti tuoi della trasmissione presumo sì beh quando finiranno di girare il film loro sono veramente due audaci tra le tue 38 domande qual è la più appropriata ad esempio per Cesare Fulesi per Cesare Fulesi ha dei segreti ha dei segreti perché poi si dà di lei rigorosamente anche se siete amici da bambini no no da bambini io Cesare Fulesi l'ho conosciuto l'anno scorso è capitato un post che ho letto su facebook dove c'era Marco Tedde che si congratulava con Cesare Fulesi per l'avvio del film perché il film doveva partire le riprese dovevano partire già novembre dell'anno scorso ottobre dell'anno scorso io l'ho conosciuto a settembre e ci siamo trovati subito in sintonia perché a me il cinema piace da morire cioè io sono sempre stato un cinematico quando ero un cinematico un cinematico quando ero a scuola alle medie alle elementari le medie il primo attore ero io che facevo le commedie addirittura in terza media ne ho scritto una io allora se tu fossi il sindaco di questa città è una domanda che ti ho sentito ma sì che cosa avresti cambiato mi dimetterei subito ah no vedi vedi che c'era già qua era già vecchia cosa faresti se tu fossi il sindaco di questa città visto che tu l'hai fatta comunque guarda tutti quanti a cui ho fatto questa domanda degli audaci che ho intervistato hanno risposto alla pulizia questa città deve essere più pulita dal tuo canto invece io farei non solo una pulizia delle strade farei una pulizia totale pulizia totale ma sei troppo generico non stiamo dando dei consigli farei negli uffici e farei pulizia ho capito quasi è stato esattamente più chiaro senti mandiamo qualche istante di pubblicità facciamo il primo blocco dopodiché ritorniamo a raccontare ancora un po' di trascorso di Fausto Farinelli ritorniamo tra un po' pubblicità dal 1984 tipografia Adamo piccoli e grandi formati digitali cartellonistica stampati commerciali e pubblicitari grafiche e adesivi su automezzi vetrofanie striscioni pubblicitari stampa abbigliamento professionale la tipografia Adamo è ad Alghero in Viacchini di 141 telefono 079 97 51 91 dal 1984 qualità grafiche e colore al servizio delle aziende seguiteci anche su Facebook pronto sa sa prova prova eccoci qua facciamo l'applauso in playback allora 1 2 3 applausi Fausto Farinelli con noi a Talk Vision in questo pomeriggio a raccontare questa sua audace audace a cuore aperto ancora insieme ancora tanti ospiti quanti ospiti hai avuto modo di avere nel frattempo quanti ne hai già allora sono andati in onda 9 puntate ne abbiamo registrato 12 12 quindi ancora sono da fare sono da fare no no hai superato già quello che era previsto beh diciamo che la prima stagione avevo fermato a 10 però ora concludo a 12 e poi a fine maggio primissimi di giugno uscirà il libro ah ecco questa è una bella cosa parliamo di questa bella iniziativa del libro futuro di audaci a cuore aperto se ti troverà così giusto? sì sì certo che cosa cosa hai fatto? non è nient'altro che la trascrizione integrale delle interviste per cui ovviamente poi ci sarà anche la storia del personaggio con fotografie documentazioni beh la foto una o due foto poi chi è un breve curriculum del personaggio un libro perché le interviste sono molto lunghe bisogna avere pazienza per ascoltarle perché sono mediamente di 40 45 50 minuti Borlotti 50 minuti Mauro Pili 50 minuti gli altri sono sui sui 30 35 e secondo me se una persona si trova in mano un libro poi uscirà prima dell'estate per cui sotto l'ombrellone sai di solito si dovrebbe leggere qualcuno dovrebbe si spera qualcuno lo leggerà sempre se non si è connessi su facebook e così secondo me arriva di più uno quando legge quello che hanno detto i nostri audaci si fa anche lui come ha fatto avere qualche domanda si dà anche qualche risposta quello che manca in questa città è l'approfondimento tu ad esempio stai facendo approfondimento e non lo fa nessuno so lo fanno insomma l'approfondimento vero significa metterti una persona davanti e fargli delle domande anche scomode e dargli tutto il tempo per rispondere perché non è che tu fai una domanda da una persona e dici guarda hai un minuto e mezzo per rispondere io ti devo dire tante cose e un minuto e mezzo come faccio a risponderti questo è approfondimento poi la gente in questo modo si costruisce un'opinione non su opinioni di altri a proposito di buona cucina perché noi siamo dei mangioni io sono a dieta come sei messo tu nei forni sei uno che cucina io cucino molto si e i tuoi piatti preferiti cosa sono i primi secondi antipasti spaghetti cani al vento non ti dirò mai la ricetta più o meno dai adesso ci fai venire la curiosità com'è? beh se tu frequentavi Olvio e Nuoro anni fa c'era un ristorante che si chiamava il ristorante cani al vento sono degli spaghetti con una base di pomodoro con un po' di panna però c'è una procedura tutta particolare per farli sono spaziali noi insieme ci siamo andati a trovare un amico in un ristorante che ci ha preparato un bel piatto andiamo a vedere che cosa ci ha preparato per questa puntata grazie a tutti